Le mostre saranno improntate su tre livelli emozionali, incanto, stupore e meraviglia, che sono le tre emozioni che noi abbiamo visto negli occhi delle persone che vengono al museo. Tutte e tre sono emozioni che rappresentano anche le arti applicate. La prima serie, che è l'incanto, è una mostra sulla ceramica napoletana dal 1882 al 1892, che sono gli anni del principe, curata da Maria Grazia Gargiulo. In contemporanea ci sarà un percorso molto interessante, curato dalla professoressa Nadia Barrella, che si chiama Impresa Familiare, per rafforzare questo rapporto tra arte, sviluppo, formazione e industria che è presente in tutti e tre i componenti della famiglia, da Gaetano Signore a Gaetano Juniore. E quindi attraverso il museo si incontreranno degli elementi che saranno, in qualche modo, che solleveranno dei dubbi che ancora ci sono in questo mezzogiorno e che non riesce a dare quello che il principe voleva all'epoca, ancora ne siamo ancora a cento anni fa. Perché il vero problema di uno sviluppo industriale, economico e di miglioramento del Sud parte dal collegamento tra arte, artigiani e industria, cosa che non avviene ancora. Ed ecco perché poi noi presentiamo tre, quattro grandi artigiani napoletani.